Tutorial Ice Cream Maker Tuck, complementare per il front lever, una delle skills fondamentali di tirata nel calisthenics, utile a rinforzare soprattutto d'orso e braccia. Questo esercizio prevede l'ausilio di una sbarra alta coppia di anelli. Afferrare in presa prona il supporto, mani larghezza a spalle e distendere completamente le braccia fino al blocco articolare dei gomiti, scapole addotte e depresse. Flettere le ginocchia al petto e sollevare il tronco fino alla posizione di front lever tuck senza tenere l'isometria. Piegare quindi i gomiti ed effettuare una trazione cercando di portare il mento sopra la sbarra. Tornare nella posizione di front lever tuck e ripetere. Inspirare nella fase discendente ed espirare nella fase di risalita.